sono tornata a guardare una guardatina ci devi venire spesso no? questa ce l'hanno ancora 15 dollari per set se questa è in buona condizione no vedi qua queste non le fanno più fuori produzione quindi ha un grande valore però perché io faccio la collezione di fiesta la uso vedi ma guardata bene non è perfetta però per tutti i giorni è un buon prezzo e queste io guardo quelle vintage vediamo qui non si sa anche queste però decorative ma va bene questo fatto in giappone sei per le decorazioni in casa anche se un po così va bene perché vintage guarda sempre per novità qui niente di nuovo non ho tempo per tutte queste cose veramente però se guardi con pazienza trovi chicche solo che io non ho tempo per guardare questo è un forse di pelle questa è un forse di pelle se la prenderà per due dollari anche questa di pelle e non sono attuali ma va bene questa è una bella borsa no ottima condizione io cerco sempre coach vintage questo buona condizione questo ci siamo passati qui sì c'è da perdere la testa qui e cerco bicchieri blu ovviamente niente sono i tappeti qui tutto questo la gente lo dà in donazione no quindi ti fanno prezzi assurdi vediamo che c'è qui di cianfrutaglia ce n'è però io cerco sempre per l'estate cerco sempre di comprare cose usate perché a parte perché non mi piace spendere per l'estate perché è una stagione che non apprezzo quindi questo è carina di vino marrone tutti i jeans sono a 5 dollari ma chi ha tempo per guardare qui ce ne sono tanti che è vero solo pazienza hanno altri pantaloni a tutti i jeans qui Grazie.